Azienda agricola Damiano presente e non è il primo anno qui nella splendida cornice di piazza De Ferraria stile artigiano. Quali sono i suoi prodotti? Lo possiamo vedere. Noi coltiviamo proprio olive taggiasche nell'entrotella d'Imperia e tutto quello che possiamo proporre deriva da essa. La lavorazione dell'oliva viene fatta direttamente nella nostra azienda con un laboratorio apposta dove snoccioliamo, facciamo delle salsine a base sempre di olive taggiasche. Poi abbiamo proposto di nuovo una crema di olive con i carciofi e quest'anno abbiamo portato un ragù di olive denominato battuto di olive taggiasche che è un sugo vegetariano proprio per condirci direttamente la pasta. Quindi torniamo ogni anno rispetto della tradizione anche del chilometro zero perché poi siete all'interno dei vostri prodotti e di prodotti liguri ma sempre con qualche novità. Cerchiamo sempre di proporre qualcosa di nuovo e sempre di girare intorno a questa oliva. Perché bisogna mangiare le olive? Le olive fanno bene, poi vanno bene in ogni pietanza, si possono usare sia come aperitivo che per cucinare e poi in Liguria appunto i nostri piatti tipici come il coniglio ci vuole un'oliva taggiasca o lo stoccafisso accomodato ci vorrebbe proprio sempre delle olive locali e specialmente taggiasche sono quelle che aggiustano anche un piatto e quella chicca in più ce ne vuole solo tre o quattro per dare un sapore in più e una completezza in un piatto ricordare bene la Liguria che abbiamo dei prodotti eccellenti.